Presidente Maioca, dunque un momento importante, importantissimo per la provincia, importante anche per le scuole casertane. Un'iniziativa che lei ha voluto e sostenuto fortemente. Sì, questa è la seconda palestra che inauguriamo, la seconda su Caserta Città. Sono i primi interventi che inauguriamo, primi di una serie di finanziamenti che abbiamo ottenuti grazie al PNRR. Ricordo che abbiamo intercettato oltre 80 milioni di euro per 36 istituti, interventi che riguardano non soltanto le palestre ma anche gli istituti, le strutture scolastiche in quanto tale. Oltre il 50% delle scuole provinciali verranno ammodernate e messe in sicurezza. Ricordo che nel 2017, quando fui eletto, le scuole erano state chiuse perché mancava addirittura il certificato di agibilità e messe in sicurezza. Oggi possiamo dire che abbiamo fatto dei percorsi importanti, non soltanto da un punto di vista economico-finanziario, ma anche e soprattutto rispetto agli interventi necessari che devono essere fatti sull'edilizia scolastica. Nonostante il PNRR non finanzi gli interventi sulla viabilità provinciale o comunale, abbiamo fatto degli sforzi importanti, impegnando fondi importanti per la viabilità, perché le strade provinciali si trovavano e direi si trovano ancora in uno stato di dissesto totale. Nonostante ciò, in questi anni abbiamo fatto degli interventi sulle strade che erano più ammalorate. In particolare siamo intervenuti in via preventiva sui ponti. Ancora prima che cadesse il ponte Morandi a Genova, pensate che la provincia di Caserta non era neppure a conoscenza del numero esatto dei punti lucidi, dei ponti della terra di lavoro, abbiamo fatto una commissione che li ha individuati tutti, abbiamo oggi la scheda sanitaria di tutti i ponti, che individua lo stato di salute di tutti i ponti. In base a queste schede abbiamo individuato delle priorità e anche qui oltre il 30-40% dei ponti della provincia di Caserta sono stati messi in sicurezza.